Ciao, sono Marco Zammarchi, fotografo e imprenditore, e ti do il benvenuto in Hacker Photographer, la prima community italiana che parla solo di business per fotografi wedding, family e pet. Allora, mi sono loggato. Partiamo dalla cosa base. Qui voi potete, dal vostro profilo, fare una serie di cose che sono, ad esempio, cambiare il vostro nome, cognome, la mail no, e potete cambiare anche l'immagine del vostro profilo e cambiare la password. Ok? Poi, nella home dovete considerare questo. Proprio ieri ho fatto una chiamata con l'India, appunto, dove mi stanno sviluppando FEDA e ho fatto aggiungere questo drop-down menu. In pratica potete vedere, in base al drop-down e all'anno che scegliete, qual è l'incasso che avete, ad esempio, nel 2019, il valore di tutti i contratti. Gli incassi, in realtà, sono i soldi che avete veramente incassato e da incassare e da incassare. Nel 2018, invece, ad esempio, avete un valore totale di 2460 euro. Ho incassato 300 euro, mi mancano da incassare 2160 euro. Questo era per farvi capire dal che punto, come è organizzata la dashboard. Poi, qui in dettaglio, per ogni singolo servizio, potete andare a vedere quello che avete incassato. Quindi, 2018, avete fatto 3 servizi newborn per un valore di 2460 euro. In realtà, questa dashboard qui, sappiate che per i prossimi 6-7 giorni è in lavorazione. Quindi, non vi preoccupate se c'è qualche dato che non vi torna, ma è perché ci stanno proprio lavorando. Tant'è vero che questo non c'era fino ad oggi pomeriggio, fino a stamattina. E qui ho chiesto agli sviluppatori di mettere un grafico che vi permette, nell'anno in corso, ad esempio, di vedere le vostre colonnine con i fatturati divisi per categoria, per tipo di servizio, che secondo me è molto utile a colpo d'occhio per capire quanto cacchio stiamo incassando in base al tipo di business. Ricordatevi sempre il concetto della semplificazione. Cioè, se come Helen, ad esempio, vi accorgete che il newborn o un servizio, le foto di architettura negli appartamenti, ha un picco e funziona alla grande, e porca miseria, è un business assolutamente da valutare, no? È ovvio che bisogna calcolare anche il margine che c'è dentro, ma quando parliamo di servizi e non di prodotti, capite bene che quando avete una colonnina molto alta, è lì che dovete spingere come dei matti. Poi ovviamente tutti gli altri servizi gli andranno dietro di conseguenza col marketing che andrete a fare successivamente. L'area contratti è fatta così. Allora, noi aggiungiamo un nuovo contratti. e nel contratto vi consiglio vivamente di inserire tutti i dati, perché è molto comodo, perché così almeno avete sempre sotto mano quando volete controllare lo stato di un cliente, tutte le sue informazioni. Quindi ad esempio Marco Zambarchi, Marco, facciamo un'altra mail che forse è già registrata, marcochiocciola mail.com va bene, numero di cellulare, l'indirizzo se volete lo potete mettere, non è fondamentale, in questo e qui ci potete mettere degli appunti, supponiamo che devo fare un... devo regalare regalo servizio di gravidanza, ok? Posso fare scrivere che ho un microfono davanti. Ecco, poi c'è una cosa molto importante, qui potete selezionare in base alle categorie che vi ho attivato, potete selezionare il tipo di servizio. Abbiamo detto che questo signore qua regala un servizio di gravidanza, ok, gravidanza, l'aggiungete e poi vedete che qui è a zero, bene, supponiamo che vendiamo le gravidanze a 200 euro, non fate nulla se non salva e automaticamente lui va a inserire nella data di oggi, perché non l'ho modificata, che oggi Marco Zambarchi ha fatto, ha stipulato un contratto di gravidanza da 200 euro, non mi ha dato nessun acconto. In realtà, se ti lascia l'acconto, c'è una cosa importante da fare, puoi fare, l'aggiungi pagamento, quindi tieni traccia di tutti i pagamenti che ricevi e adesso qui c'è un po' una furbata. Allora, innanzitutto, non vi ho detto che i soldi che noi scriviamo qui sono sempre al netto dell'IVA, mi raccomando, al netto dell'IVA, quindi sono 200 euro più IVA e vi spiego il perché. Perché? Allora, prima di tutto, quando fate il vostro bilancio col commercialista, non esiste avere il bilancio IVATO, no? È sempre IVA e scusa. La seconda cosa è la seguente, che se mischiate i due colori, il bianco col colorato, per capirci, quando infatti aggiungete il pagamento, aggiungi pagamento, io ho fatto sta furbata qui, ho detto, ma com'è che ti paga il cliente? Ti paga in contanti o ti paga con bonifico bancario? A noi succede, detta sinceramente, che a volte ci paga in contanti e a volte con bonifico bancario. Noi qui rendicontiamo tutto, di modo che noi l'importante è che andiamo a scalare dal netto sensiva. quindi ad esempio oggi Marco Zammarchi mi dà un acconto di 50 euro e io lo vado a segnare. Cash. Ok? Qui non ci interessa scontrini, non scontrini, l'importante è che voi sapete che avete un servizio da 200 euro, ve ne restano adesso da incassare 150 e 50 euro sono gli incassi. Una nota metodologica è questa, ho chiesto ai miei sviluppatori di fare questa cosa qua. Siccome potrebbe succedere e succede che il cliente Marco Zammarchi dopo la data del contratto del 18 gennaio oltre alla gravidanza può ad esempio fare il matrimonio, può fare un servizio aziendale, può fare altre cose, è chiaro che qui io ho chiesto ai miei sviluppatori di inserire una casella che è la data del servizio. Quindi quello che vi voglio dire che ci sarà a partire dalla fine della prossima settimana qui scrivete la data del contratto. Qui invece comparirà una casella nei prossimi giorni nella quale ci sarà scritta la data del servizio. Ad esempio se la gravidanza viene fatta il primo di marzo noi qui scriveremo 1-3-2019. Ovviamente potete modificare il valore del contratto se cambia, potete cancellare i contratti mi raccomando state attenti perché infatti c'è la doppia spunta se per errore cliccate sul tasto del bidone. Nella singola scheda del cliente l'altra cosa che vi volevo far vedere è che potete ritrovarvi anche qui i dettagli di pagamento. Supponiamo che appunto siamo giunti al primo di marzo ed è il giorno in cui fate il servizio fotografico il cliente vi salda e quindi magari dice no se stavolta ti pago con Bancomat allora bank l'incasso è bancario verrà fatto il primo di marzo abbiamo detto ad esempio e quindi il saldo è di 150 euro più IVA quindi in questo caso qua si refrescia e come vedete c'è stato il 18 di gennaio l'acconto cash e il primo di marzo il pagamento bancario adesso se andiamo nella nostra lista dei allora nella nostra ecco lista qua valore 200 incassi 200 da incassare 0 come potete capire è molto comodo perché in questo modo qui in un colpo solo riuscite ad avere una gestione finanziaria del vostro studio clicca sulla campanellina e segui tutti i nostri contenuti ciao ciao